Era arrivato un pareggio senza grandi squilli, pareggio di oggi non vale tantissimo per la classifica però un pareggio più pesante perché ottenuto contro una delle corazzate di questo campionato però è mancata ancora la vittoria Noi dobbiamo affrontare le squadre per vincere le partite quindi che sia Frosinone che sia Lecce, noi dobbiamo andare in campo per vincere le partite perché abbiamo bisogno di punti e di punti importanti è normale che oggi è stata una buona gara, abbiamo fatto secondo me un'ottima gara concedendo veramente poco all'avversario però per vincere queste partite qua bisogna concedere poco perché loro hanno degli attacchi importanti sia quelli del Frosinone sia quelli del Lecce abbiamo avuto tante palle e gol per riuscire a pareggiare addirittura potevamo vincere la partita però abbiamo pareggiato forse nel momento dove c'era poco tempo per riuscire a ribaltare la partita Abbiamo visto anche grande entusiasmo dopo il gol di Busellato anche perché la partita era praticamente quasi finita Bocchetti due facce della stessa medaglia perché questa squadra con Grassadonia negli ultimi 180 minuti ha subito un solo gol e ha subito anche poco dalle formazioni avversarie però in avanti si continua a far fatica oggi però nel secondo tempo con Macini in campo e soprattutto con Giannetti si è visto qualcosa di meglio rispetto alle altre partite Al primo tempo hanno fatto comunque una buona gara perché si sono sacrificati tanto ricordiamo che comunque loro lasciavano sempre tre giocatori in attacco fissi quindi hanno una posizione di classifica che possono permettersi di fare tutto noi arriviamo ad una posizione di classifica deficitaria quindi abbiamo bisogno di un po' di equilibrio in più questi giocatori che possiamo mettere in corso d'opera sono giocatori di qualità che possono dare qualcosa in più e l'hanno fatto bene Diceva in conferenza stampa il Tecnico della Stadonia possiamo fare e possiamo ancora raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati 13 gare al termine, 39 punti lo diceva anche Giannetti la matematica ci dà ancora speranze però il discorso è sempre lo stesso bisogna cercare di vincere le partite martedì ci sarà un'altra partita decisiva per il campionato del Pescara un altro crocevia fondamentale Saranno tutte partite così quindi la paura non c'è dobbiamo solo usare qualcosa in più questo sì però possiamo usare con equilibrio non è che possiamo andare sui campi all'arma bianca cercare di vincere le partite e poi prendiamo tre gol dobbiamo cercare comunque di avere un equilibrio importante sfruttare le occasioni che ci concedono perché oggi abbiamo veramente buttato via tre punti che potevano essere una buona cosa per noi per la classifica, per l'ambiente e cercare di lavorare bene sulla partita di Cittadella Oggi non c'era Setter c'è la possibilità di recuperarlo per quello che voi sappiate per martedì oppure si pensa già alla gara di sabato con la spalla? Ma noi dobbiamo pensare a altri giocatori abbiamo tanti giocatori non male se Setter non sta al 100% il ragazzo non gioca fin quando non cerca di recuperare le distorsioni che ha avuto alla capiglia il ragazzo in questo momento è dolorante quindi aspettiamo quando sta un pochettino meglio e cercare comunque di fargli fare degli allenamenti un po' più intensi per provarlo a farlo giocare Chetti, un'ultima cosa prima abbiamo visto il presidente Sebastiani dinanzi agli spogliatoi ha avuto modo di parlare col presidente insomma, cosa ha detto? si ha detto qualcosa di questa partita? abbiamo parlato poco abbiamo parlato soprattutto delle palle che potevamo cercare di ribaltare alla partita perché Lecce comunque ha fatto una palla goal e ha segnato noi per fare goal dobbiamo fare qualcosa in più questa qualcosa in più dobbiamo farlo subito perché non abbiamo tempo Chiedo un attimo al direttore di attendere perché c'è una domanda da Andrea Costantini dallo studio Andrea Direttore chiede Andrea Costantini da studio ancora una volta oggi la squadra ha mostrato di avere delle difficoltà difficoltà maggiori rispetto alle gare giocate in trasferta per esempio Empoli e per esempio Frosinone poi perché in alcuni contesti anche della stessa partita manca quel sangue agli occhi se così vogliono dire quella cattiveria e anche di approccio alla partita perché anche oggi l'approccio della squadra forse è stato un po' leggero è normale che comunque tutto dipende dalla situazione di classifica noi abbiamo l'ansia di vincere quindi in questo momento qua abbiamo questi problemi qua diciamo che comunque il secondo tempo si è visto un altro Pescara onestamente anche il primo tempo abbiamo rischiato veramente poco tranne quella sponda di Meccariello con il gol di Maggio ma noi abbiamo rischiato veramente poco non abbiamo fatto chissà che cosa in attacco però la partita era molto equilibrata ma noi dobbiamo avere questo equilibrio dobbiamo cercare di crescere sempre nei 30 metri per cercare comunque di ripartire abbiamo fatto una mola di gioco che poteva essere un po' più incisiva non siamo riusciti ma nel secondo tempo comunque si è visto un Pescara importante un Pescara che ha messo sotto il Lecce ha cercato comunque di concludere delle azioni importanti perché non dimentichiamoci che abbiamo avuto tre palle e gol importanti per cercare di pareggiare e di ribattere la partita in questo momento qua ci c'è così però non possiamo fare programma non possiamo fare niente il sangue agli occhi bisogna averlo tutti i secondi perché siamo ultimi in classifica benultimi e non possiamo assolutamente retrocedere quindi noi ci dobbiamo mettere il sangue agli occhi sempre non solo in questa partita non solo nelle altre ma tutte le altre partite che andiamo a affrontare dobbiamo avere questo spirito sicuramente L'ultimissima direttore le condizioni di Galano perché oggi ci si aspettava l'ingresso in campo dell'ex attaccante di Foggia e Bari probabilmente non è al meglio della condizione è saltato qualche allenamento in settimana? No, no, no il ragazzo sta bene è solo una scelta tecnica ci sono tre partite in una settimana abbiamo bisogno di tutti quindi è tutto comunque in funzione anche alle tre partite dobbiamo affrontare grazie a tutti